Sono circolati audio in cui è fin troppo chiaro quello che è accaduto. Si dice che non c'erano rapporti con Diego, ma non è così. Ci vedevamo a casa delle nostre figlie, ci mandavamo messaggi anche fino agli ultimi giorni. La verità è che ci sono persone che stanno difendendo quello che non può essere difeso. Per queste persone è morta la gallina dalle uova d'oro. Diego è stato sequestrato da persone che non sono intervenute di fronte a quel disastro che era diventata la sua vita. Quando si parla del rapporto di Diego con i figli, si parla solo di Dalma e Giannina, ma Diego ne aveva anche altri. Allora, Alessi, aiutami a capire. Intanto l'eredità ai cinque figli riconosciuti vuol dire che tutti quelli che stanno cercando il riconoscimento perché dicono anch'io sono figlio di Maradona, apriranno una causa nuova, Pisani mi dice di sì, perché vogliono l'eredità, per cui bloccheranno tutto di fatto ora. Alessi? Sarà una causa lunghissima e su più processi perché ormai io sono arrivato addirittura a contare fino a 14 figli tra riconosciuti e non riconosciuti di Maradona e nessuno ha intenzione di fare un passo indietro. Ho parlato anche personalmente con Santiago, che è uno dei figli appunto non riconosciuti, il quale però ha portato anche dei documenti di contatti col padre indiretti attraverso l'avvocato Morla, avvocato che in un primo momento peraltro non era per nulla contrario a questo riavvicinamento. La situazione è estremamente complicata, come è anche complicata la situazione sugli indagati che attualmente sono cinque, sono le persone che erano addette alla cura di Diego Armando Maradona nella famosa casa del quartiere Tigre. Ma ora pare che si possa anche aggiungere un altro perché la Veronica Oglieda, che è la madre di Dieghito, il bambino più piccolo di Maradona, che è oggi a sette anni, ha detto che di aver visto personalmente Charlie, che è il marito della cugina di Rosio, che è l'ultima compagna di Maradona, una storia che era finita un paio d'anni fa, portare nella casa sia alcol sia droga, parlo di appunto farmaci ricreativi, come vengono chiamati in certi casi, e di avere visto questo materiale proprio sul comodino di Maradona, per cui io credo che arriveremo molto presto anche al sesto indagato. Allora, vediamo che cosa dice la Oglieda, ok? Che non usa giri di parole, dice lo hanno ucciso lentamente. Ascoltate. Sto passando un momento difficile, come tutta la famiglia, soprattutto per mio figlio. Non c'è un giorno che non mi dica, voglio vedere papà, portami in cielo perché voglio vedere papà. Gli ho detto che se voleva poteva andare in cielo a trovare suo padre e i suoi nonni. Come posso dire a un ragazzino di otto anni che suo padre è stato ucciso lentamente? Mi hanno bloccato il telefono, ho chiamato dal cellulare della psicomotricista di Dieghito, e così ho potuto comunicare e tornare in contatto con lui. Molte volte non mi hanno lasciato entrare. Una volta sono arrivata a Dubai, sono andata a casa di Diego e non mi lasciavano entrare nel quartiere. Mamma mia, farsi. Posso dire una cosa? Allora, tutto questo discorso di risarcimento dei figli non riconosciuti, oltre che di quelli riconosciuti, non potranno mai sanare il vuoto di non aver avuto un padre attento e vicino a loro. E questo tipo di morte, tra l'altro, questo fatto che per ottenere danaro, per avere... è stato fatto morire lentamente a quello che no, la dice lunga su che tipo di ricordo questi figli avranno. Io, scusatemi, faccio attenzione soltanto su questo. Se l'eredità è un risarcimento per l'amore non ricevuto, quell'eredità non è un risarcimento. Comunque tutti lotteranno per avere il risarcimento economico del vuoto d'amore che non hanno avuto e per essere riconosciuti come figli di un padre che ha fatto quella fine dopo essere stata una persona eccezionalmente capace di giocare, di affascinare le folle, eccetera. Quindi un mito che cade, come tutti i miti, come tutte le realtà è, diventa una persona umana di fronte alla morte. E quindi cercare di capire che la morte è la prima e la madre di tutte le angosce umane e che con quella dobbiamo fare i conti. E quel bambino che dice, scusatemi se concludo, quel bambino che dice a otto anni, mamma fammi andare a raggiungere papà in cielo, sta sperimentando per la prima volta cos'è l'angoscia di morte, il distacco, la fine. Allora, Pisani, parliamo dell'eredità adesso. Perché con questa notizia, che è una bomba questa notizia, perché dice Diego Armando Maradona, vedete la grafica, gli eredi ufficiali, che sono praticamente i cinque figli riconosciuti. Dopodiché, dopo questi cinque figli, nel corso di questi ultimi mesi, dopo la morte di Diego Armando Maradona, sono arrivati altre persone, altri ragazzi, ragazze, che in una maniera o nell'altra hanno detto attenzione perché anch'io sono figlio di Maradona. Che cosa significava in quella anch'io sono figlio di Maradona? Anch'io ho diritto all'eredità. Pisani. Allora, chiariamo una cosa. È una bomba probabilmente per gli altri, ma noi, proprio a storia italiana, abbiamo contato e identificato gli eredi, cioè i cinque figli, già qualche mese fa. Quindi sapevamo benissimo chi erano gli eredi legittimi e che sono i cinque figli che oggi vengono identificati e legittimati dal Tribunale Argentino. Detto questo, dobbiamo anche chiarire subito che i figli, quelli legittimi, e quelli che probabilmente saranno riconosciuti secondo le vie giudiziarie, secondo le procedure previste, sono vittime di questo dramma. Certamente non sono né responsabili, né tantomeno complici o quant'altro. Tutti i figli, tutti quelli che volevano bene a Diego, sono vittime di un dramma che è stato organizzato e causato da chi non voleva bene a Diego Armando Maradona e lo ha abbandonato, lo ha accompagnato a una morte molto triste. Quindi i figli sicuramente non hanno nessuna responsabilità. I cinque, quelli là, ufficiali, chiamiamoli per oggi così, sono al momento tra di loro uniti e non c'è nessuna discordanza. Gli altri hanno tutti i diritti... Mi sento Pisani o no? Pisani, molli il libro che tanto lo sappiamo che ha scritto, ne parliamo dopo del libro. Allora, noi l'abbiamo sempre detto che i figli riconosciuti erano coloro che avevano diritto all'eredità. Ok? E ci siamo. Ma adesso c'è un altro problema perché poi le sorelle che invece erano più dalla parte, diciamo, di Luca, dell'avvocato Morlas, eccetera, eccetera. Adesso ne parleremo. Però tutti i figli adesso... Caterina Collovati... Ciao Caterina. Eleonora. Moglie, fra l'altro, di un grande campione. Caterina Collovati. Ma tutti gli altri figli, non so quanti ce ne sono che hanno richiesto adesso il riconoscimento di Maradona? Tre, quattro? Forse quattro? Sono arrivata... Io il conto esatto l'ho perso. Io ho perso il conto, ecco. Esatto, l'ho perso anch'io, Eleonora, perché ho preferito perderlo, nel senso che è chiaro che se questi figli dovesse essere riconosciuti di Maradona veramente, avrebbero diritto anche loro. Ma è vero anche che se si sono svegliati le loro madri o i figli stessi, qualora fossero in età da farlo da soli, dopo la morte di Maradona, questo trovo sia una cosa svilente, triste. Io ho molto apprezzato le parole di Claudia Villafanes quando è intervenuta nella trasmissione appunto di una tv argentina. Una donna, Claudia, che ho conosciuto anche all'epoca in cui Diego Armando giocava per il Napoli. Una donna, ricordiamo, che è stata criticata, è stata insieme alle sue figlie, però ricordiamoci che questa donna è stata una delle poche donne che si è messa con Maradona quando Maradona ancora non era il Maradona che poi abbiamo visto. Gli è stata vicino, Sì, sì, ma siamo tutti d'accordo, ma io voglio sapere se adesso l'eredità va oltre cinque figli e la mettiamo la grafica di quelli che hanno richiesto il riconoscimento e che ancora non si sa se sono figli o no di Maradona. La mettiamo quella grafica che mi avevate passato prima, per favore. No, questa è quella dei figli ufficiali, l'altra, con i punti di domanda. Dunque, Alessi aiutami. Qua c'è Ioana, Iavelito, Harold, Lu, e poi gli altri, mi sembra, tutti quanti. No, e Santiago, anche Santiago ha chiesto riconoscimento, giusto? L'avvocato che già ha contattato, già in passato, Morla, e in un primo momento Morla non era neanche Morla l'avvocato di Maradona, diciamo, quello che è indagato anche. Per cui, l'elenco è molto lungo, calcola che oltretutto solo Harold era stato al centro anni fa di un esame del DNA di fronte a un tribunale e in un primo momento la madre aveva accettato il fatto che non fosse figlio di Maradona. Poi però ha scoperto questa signora che lavorava in una discoteca e che conosceva benissimo, fotografatissima, lei incinta con Maradona su una barca. Cioè, non stiamo parlando di incontri casuali, uno dice ma non è. È. In pratica questa persona è riuscita a fare, dice questa signora, che erano stati diciamo manomessi gli esami del DNA. Per cui si apre un processo nel processo. Io sono arrivato a contarne addirittura 14. Tre di questi figli per esempio vivono a Cuba e non erano relazioni segrete questi incontri di Maradona con queste signore. Vorrei dire una cosa importante, scusami se mi permetto. Io ho un grande rispetto per Caterina Collovati, ma non ci sono figli di serie A e figli di serie B. non ci sono figli e non esistono. Questo non ha detto nessuno. Però io voglio sapere come possibile che dopo la morte di quest'uomo si siano introdotte tutte queste persone che dicono di essere figli. Allora a questo punto l'elenco può arrivare all'infinito. Può arrivare all'infinito l'elenco. Quindi io dico che sto con la decisione del Tribunale argentino di risarcire i cinque figli regolari. Dopodiché se non sono stati riconosciuti non possiamo dire che hanno gli stessi diritti. Mi consentirai? Allora Caterina sono stupito che una giornalista attenta, intelligente e scrupolosa come te non sappia che di quegli figli che in qualche modo vengono considerati con meno indiritti avevano già intrapreso delle pratiche per il riconoscimento. avevano già cercato Morla e Maradona avevano già avuto degli incontri che poi sono stati negati nel momento in cui Maradona si è Io apprendo che si sono fatti vivi dopo la morte del campione. Quindi già solo questa è una cosa che dici tu. Io so che si sono presentati dopo la morte del campione se mi consenti da un punto di vista morale e etico questa cosa è orribile se così fossero andate le cose. Non lo so se l'avvocato Pisano può dire qualcos'altro. Allora visto che abbiamo l'avvocato Pisani adesso chiediamo all'avvocato io volevo solo dire e fare questa precisazione allora ci sono alcuni che si sono forse presentati dopo però il più di queste persone di questi ragazzi si sono presentati prima poi perché noi adesso veniamo a sapere di queste situazioni e di queste pratiche perché dopo la morte di Maradona chiaramente i giornali argentini li hanno cercati hanno parlato con tutti hanno fatto interviste in tutto il mondo perché pensate che questo è un caso che sta interessando tutto il mondo i giornali argentini i quotidiani le televisioni argentine ne parlano tutti i giorni perché ogni giorno fra l'altro ne viene fuori una di nuova allora l'unica cosa che posso però dire e l'avvocato Pisani mi potrà correggere o meno attenzione perché non è che possano dare l'eredità ai cinque figli di riconosciuti e poi caso mai caso mai dare qualcosa agli altri e no perché l'eredità nel momento in cui viene spartita viene spartita una volta per tutte cioè il fatto che ci siano queste pratiche in corso di riconoscimento verso altri soggetti blocca di fatto l'eredità avvocato purtroppo no tra l'altro chiariamo che il direttore Roberto Alessi ha fatto una ricostruzione regolare e perfetta così come è giusto dire che non ci sono figli di serie A e di serie B al momento il tribunale ha legittimato cinque figli ma ci sono altrettanti ragazzi e ragazze che ritengono di essere figli di Maradona e che dovranno fare le loro procedure previste dalla legge dall'ordinamento argentino e quando avranno un riconoscimento potranno vantare i loro diritti ma al momento la causa chiamiamola ereditaria di Maradona non è sospesa quindi i cinque figli legittimi avvocato votranno il titolo e degli effetti dell'eredità quando gli altri se saranno riconosciuti e ovviamente se sono figli è giusto che siano riconosciuti allora in quel momento loro potranno vantare la loro quota dell'eredità nei confronti dei cinque figli che ovviamente divideranno per cui la vanterebbero su quello che già hanno preso i figli riconosciuti cioè sarebbe un passaggio di mano diciamo questo? Pro quota da ognuno perché al momento non c'è nessuna sospensione qualcuno potrebbe chiedere una sospensione ma non è stata chiesta nessuna sospensione della procedura ereditaria che noi sappiamo secondo me l'hanno chiesta la sospensione mi scusi ma se a meno per la testa tant'è vero che neanche i giornali argentini parlano di istanze che difenda un figlio illegittimo che però chiede la legittimità dovrebbe chiedere una sospensione perché faccio semplicemente un ragionamento logico lei è un avvocato io non lo sono ma è un ragionamento logico se tutti i beni vanno a cinque persone poi andagli a togliere dei beni già acquisiti da cinque persone per riprenderseli in un secondo momento la vedo un po' dura francamente non lo so che cosa ne pensate ma non è stata chiesta e tra l'altro ci dovrebbe essere un processo già avanzato cioè un DNA già certificato per poter ottenere una sospensione delle altre procedure quindi non è facile ottenere la sospensione in questi casi anche perché parliamo di ragazzi che stanno chiedendo il riconoscimento ma non lo hanno ottenuto certo ricordiamo sempre che l'avvocato lei rappresenta alcuni dei figli di Maradona giusto? quelli legittimi io non rappresento i figli di Maradona no nell'eroguità io ho difeso Diego Armando Maradona e ovviamente conosco benissimo la questione come dal primo momento ho detto che i veri eredi sono i cinque figli di Maradona poi ci sono le sorelle poi ci sono i fratelli di Maradona poi ci sono gli amici avvocato immagino che le leggi in Argentina siano anche differenti dalle nostre in Italia quindi bisogna anche conoscere esatto le leggi argentine stanno chiedendo di essere riconosciuti e credo che come hai detto tu prima lo chiedano da tempo e non ora non stanno chiedendo quindi l'eredità vogliono essere riconosciuti giusto? perché sono due cose diverse davvero un conto è che io lotti per poter essere riconosciuta come figlia di un conto è una lotta per avere qualcosa avere un'eredità parte dell'eredità sono due concetti diversi questi quindi qua bisogna capire bene qual è l'obiettivo di questi ragazzi Riccardo intanto sarebbe bellissimo essere riconosciuti immagino di essere un figlio di Maradona un po' trascurato un po' in un paese sperduto vorrei essere riconosciuto poi evidente se c'è qualcosa che mi spetta di eredità come giusto che sia per i figli di quelli che lasciano dei patrimoni ci vorrebbe io non credo mai che l'eredità sia cioè nel senso quello che uno ha creato in vita non necessariamente per forza lo devo lasciare a un figlio ma perché ma perché ma perché no è quello che ho fatto io ma un figlio non deve vivere della mia eredità di quello che ho fatto io un figlio deve essere indipendente deve costruirsi la sua vita deve andare avanti con le sue gambe poi quel che arriva arriva per carità se c'è ben venga ma non deve essere quello l'obiettivo lo scopo però se Maradona ha avuto delle storie d'amore più o meno brevi ma quelle ne ha avute tante lo sappiamo più o meno brevi più o meno belle e una donna quando poi lui se ne va partorisce un figlio è giusto che prima o dopo lui intervenga e protegga il figlio in qualche modo però conosciamo un po' la storia di Maradona abbiamo visto anche con Diego Junior quello che accadde in Italia sul momento non lo riconobbe cioè perché sono sempre stati considerati per quanto riguarda cioè da Diego dei Fleur non erano delle compagne ma quando nascono delle creature eh no certo lì devi essere responsabile di quello che fai cioè se vai con una donna dovresti essere responsabile quando parlavate prima c'era un nodo in comune tra voi il discorso è essere riconosciuti quello conta quello è mio padre quella è l'origine che è dato il via alla mia vita poi bisogna vedere chi è come mi ha curato se c'è stato se non c'è stato il risarcimento che viene chiesto dopo è una maniera per dire e beh con tutto in particolare chi non c'è stato è come dire almeno mi lasci qualcosa viene dopo il denaro ma il discorso è proprio riconoscimi come figlio è comunque dai un'identità alla persona anche se non ti condivido Pisani lei mi sta dicendo un po' come diceva Gaterina Colovati prima mi sta dicendo che per cui le pratiche per l'eredità sono già state avviate l'eredità arriverà in fretta a questi cinque figli giusto? non in fretta secondo i tempi della giustizia argentina l'eredità sono dieci anni cioè secondo i tempi della giustizia argentina però si va dritti non verranno bloccati questo dico il problema non è i cinque figli il problema oggi è stabilire qual è l'eredità dove sono i soldi dove sono i patrimoni dove sono i beni quindi ora bisognerà fare un altro procedimento per valorizzare identificare qual è il patrimonio che deve essere diviso tra i cinque figli nel frattempo c'è un altro procedimento dei presunti figli che chiedono il riconoscimento e non l'eredità per ora vabbè però nel momento in cui uno viene riconosciuto acquisisce un diritto che è un'eredità perdonatemi ci sono anche presunti figli che dicono che vogliono solo essere riconosciuti e oggi non volere l'eredità vabbè questo non è un gol di Maradona questo veramente non è un gol un diritto nel momento in cui viene acquisito anche senza la volontà della persona ma comunque viene acquisito in automatico dovrebbe essere riconosciuto va bene allora come vi muoverete adesso avvocato voi ora stiamo aspettando appunto i vari procedimenti perché poi c'è anche un procedimento quello sulla morte di Diego dal punto di vista medico legale su come è morto e anche su quelle che erano le persone che circondavano Diego perché quello che dice Claudia nei suoi messaggi è vero anche noi tre mesi fa Diego era stato non solo abbandonato ma anche sottratto agli amici così come ai figli agli affetti più veri quindi bisognerà stabilire responsabilità e chi ha nominato i medici che oggi sono indagati perché sono stati nominati che cosa hanno fatto e chi non ha tra virgolette sorvegliato i medici beh chi lo sappiamo però scusa avvocato mi date Luca per favore Morlas facciamolo dire a loro sì sì per carità però insomma i giornalisti qualcosa in più lo sanno non è che voglio dire sappiamo da chi sono stati nominati questi medici lo ha detto anche lei prima dice le cose poi si ritrae avvocato io so tutto ma aspetto ovviamente correttamente aspetto visto che c'è un'indagine in corso che ci siano i giudici che stabiliscano le varie responsabilità di tutti quanti perché le responsabilità non sono di una persona ma ci sono vari responsabili di questo dramma va bene nel frattempo che noi aspettiamo poi i magistrati argentini intanto le faccio sentire un audio va bene avvocato quest'audio è tra Luque il medico di Maradona e Morla i due si conoscevano lo sa no? che si conoscevano lo sa che Luque era amico di Morla no? questo lo sa giusto? Morla ha nominato Luque come medico di Maradona allora me l'ha detto lei che l'ha nominato e prima mi ha detto che non lo sa sono amici sono amici ma non vuol dire essere responsabile sentiamo sentiamo ascoltare la internazione è relativa perché? perché lo primero che hai fatto è cortare il accesso non è internarlo questa è la mia sugerenza iniziale osea che il tipo non se tenga abro la ladera il tipo sembra un supermercato chino la quantità di alcol che ha è vero questo non ha che avere non ha avere accesso al faso non ha che avere questo che non ha che che le fa arrivare è che cortare non può avere accesso a la pastilla non so la quantità di pastilla che ha però voi mi dicis si cortare il alcol o il faso non ho il faso non ho niente che vero miro miro e il alcol in la casa non sei chi lo compra io non mi dedico a questo sono abogato non ho le comprate della casa e le pastilla non sono medici non so che dire se il tipo non può administrarse la pastilla o una storia di esa naturaleza mi piace che sta per una internazione io non posso controlando che vanno a comprare una bottiglia di cerveza o di coca cola io sono abogato non sono il papà